Buongiorno a tutti cari amici, buongiorno. Oggi sono venuto proprio qui in questa frazione di Reana, Reana del Royale. Questa frazione si chiama Cortale. Sappiamo che il comune di Reana ha tante frazioni e quindi anche tante chiese, tante parrocchie. Ecco, scusi faccio un piccolo... Buongiorno, buongiorno. Ecco, come si chiama qui il... Ci sono queste rose, abbiamo anche queste piante. Allora, ecco qui troviamo il nome di questo ristorante, Al Skuss. Il Skuss sarebbe in friulano, mi stava spiegando il proprietario, il cartoccio della pannocchia. Ecco, avete visto il nostro Marco che naturalmente ha fatto un po' di spazio per poter vedere meglio il nostro cartello. Intanto ti saluto Marco, grazie del tuo servizio e del tuo lavoro. Ecco, bravo. Saluto a tua mamma anche che ci vede magari. Ecco. Ciao mamma. Ed ecco, vediamo anche qui nel giardino, nel giardino verde, di questo ristorante di Cortale. Vediamo anche questa pietra, molto bella. Rappresenta un po' forse una conchiglia, insomma una specie di fontana. Ma a proposito di fontana andiamo a vedere, perché di là vedo che c'è molta molta acqua. Ed ecco, c'è anche questo cartello, pericolo di annegamento. Quindi io in particolare devo stare attento per non scivolare, magari facendo il video. Ecco, mi giro verso la fontana, sentiamo lo scroscio dell'acqua, queste piccole cascate, che naturalmente è bello sentire questo rumore dell'acqua, questo fiume che esce, questa schiuma. Ed ecco che l'acqua si combina molto bene con il mulino. Qui c'è un antico mulino, ora dismesso, alle volte però mi pare che funzioni ancora e sono cose splendide, che ci fanno ricordare i tempi passati. Ecco, riprendo ancora il rumore dell'acqua, queste immagini di frescura. Sarebbe bello anche fare un bagno, ma è pericoloso naturalmente. Ed ecco qui allora, questo ristorante a Cortale. Cortale comune di Reana del Royale. Ed ecco, riprendiamo da questo lato la visione di di questa acqua che scende. Questa è la roggia, mi pare, in questa zona, c'è questo canale, diciamo, industriale. Ecco il mulino e la visione di tutto questo scendere dell'acqua. Mi giro verso il ristorante e verso il giardino, splendido giardino con piante, fiori. Ed ecco un ricordo della vita passata ormai. Ecco un aratro, un aratro antico messo qui come ricordo del passato, per non dimenticare. Ebbene, cari amici, da questa frazione di Cortale, comune di Reana del Royale, da questo luogo veramente particolare, vediamo anche la bandiera del Friuli che sventola sulla casa. Ebbene, da questo luogo, ritornando un po' alla cascata dell'acqua, ecco un saluto a tutti voi. Vi auguro un buon mese di giugno e poi anche una buona estate. Un'estate che dopo il periodo di pandemia che abbiamo passato, mi pare che si presenti abbastanza bene quest'anno. Ecco, allora buone vacanze, buona estate. Un saluto a tutti voi, cari amici. Mandi, mandi.